Il presidente della regione, Luca Zaia, in veste di commissario per l'emergenza ucraina, nel corso del punto stampo odierno ha comunicato che in corso di allestimento l'invio di 7 bilici contenenti l'ospedale da campo donato dal Qatar alla regione del Veneto durante l'emergenza Covid. La struttura è stata ceduta dalla regione del Veneto alla protezione civile nazionale che ne disporrà la destinazione. Sono stati forniti anche alcuni numeri di sintesi rispetto all'attuale quadro dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nella nostra regione. Allo stato attuale il numero degli arrivi registrato in Veneto dalle prefetture si attesta intorno a 10.000 persone. I profughi ospitati negli hub di prima accoglienza della regione del Veneto sono complessivamente 389, 79 ad Asiago, 92 a Isola della Scala, 78 a Monselice, 70 a Noale e 70 a Valdobbiadene. Nell'ultima settimana si registra una media di circa 400 arrivi al giorno. Per chi volesse comunicare la propria disponibilità, offrire aiuto, ospitare profughi, la regione mette a disposizione un'e-mail ucraina-regione.veneto.it un form compilabile online e il numero verde della protezione civile regionale 800-99-0009 www.mesmerism.info.it www.mesmerism.info.it